Cari amici di Angoli, ben ritrovati. Grazie per essere con me anche questa sera e continuiamo ovviamente anche in questo spazio ad accendere, a tenere ben attento il focus su quello che sta succedendo per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Se siete stati in nostra compagnia fino a poco fa e avete seguito quindi l'edizione straordinaria condotta da Andrea Bambace, avrete saputo appunto che in regione Lombardia la situazione è particolarmente convulsa. C'è la nostra collega Elisa Santamaria, doveva collegarsi appunto, doveva seguire la conferenza stampa che è stata sospesa per un aggiornamento credo sia nuovamente collegata con noi. Vediamo. Buonasera Dolores. Elisa, ben ritrovata. Com'è la situazione in questo momento per gli amici di Angoli che magari si sono appena collegati con noi? Puoi riepilogare che cosa è accaduto? Sì, buonasera Dolores e a tutti i vostri spettatori. Verso le 18.30 c'è stato comunicato che la conferenza stampa indetta dal presidente Fontana insieme all'assessore welfare Gallera è stata cancellata. Questo perché un membro dell'unità di crisi è sottoposto ad accertamenti sanitari. In questo momento hanno diramato un comunicato che leggiamo insieme Dolores, ufficiale, riguardo proprio all'annullamento della conferenza stampa. Coronavirus annullata la conferenza stampa in Regione Lombardia, l'ufficio stampa della Regione comunica che poiché sono in corso alcune verifiche sanitarie su un dipendente regionale che ha avuto contatti con l'unità di crisi che sta coordinando l'emergenza coronavirus in ottemperanza delle linee guida del Ministero della Salute. La conferenza stampa è stata annullata. Seguirà un comunicato con gli aggiornamenti della giornata. C'era stato riportato esattamente questo, che un membro di Regione Lombardia che ha avuto contatto con l'unità di crisi, con una persona attiva nell'unità di crisi, è sottoposto a degli accertamenti sanitari. Poco fa, perché parliamo di meno di mezz'ora fa, la reazione concitata, è andata in diretta proprio su Espansione TV, la reazione concitata dei colleghi che non si aspettavano certo una soluzione del genere. Ricordo la giornata a Dolores, alle 17.30 doveva esserci la conferenza stampa. è stata posticipata alle 18.30 e questo in realtà avrebbe già potuto farci pensare che qualcosa non andava, sebbene siamo piuttosto abituati in realtà a ritardi nel cronoprogramma delle conferenze stampa. Questa volta invece è arrivata la notizia, nessuno se lo aspettava Dolores, nessuno era qua pronto con le telecamere perché attendavamo invece la solita comunicazione riguardo all'arrivo dei rappresentanti della Regione. Arrivavano le persone addette a informarci che sarebbero arrivati nell'ordine di 15, 20, 30 minuti. Invece questa volta è arrivata la notizia dell'annullamento. È arrivata molto chiara, la reazione dei colleghi è stata anche molto forte perché chiaramente senza avere tali informazioni è difficile capire come noi stessi possiamo muoverci. Siamo tutti impegnati a riprendere questi momenti, a testimoniare l'evoluzione della situazione coronavirus in Lombardia e questo ci ha veramente tolto un pochino la terra sotto i piedi perché è difficile capire se poi verrà qualcuno e allora a darci qualche informazione in più. Invece l'unica informazione che abbiamo avuto è stata la prima questa riguardo all'ufficialità dell'annullamento della conferenza stampa e ai motivi ufficiali. La seconda comunicazione invece è stata quella che tutti gli aggiornamenti che avremmo dovuto raccontare e registrare oggi verranno affidati ad un comunicato stampa. Abbiamo riportato le parole anche dei colleghi riguardo alle preoccupazioni che noi stessi ci siamo esposti. Se noi stessi siamo stati esposti alla possibilità di essere stati in contatto con la persona ora oggetto degli accertamenti sembrerebbe di no ma torniamo anche a una situazione di tranquillità nel senso ricordiamo tutti che si tratta di un virus che è molto contagioso ma poco più forte di un'influenza quindi anche noi stessi dobbiamo tornare a tranquillizzarci perché anche se fosse sappiamo come dobbiamo comportarci quali sono i sintomi da tenere sotto controllo. Per quanto riguarda invece la situazione coronavirus abbiamo testimoniato una situazione di calma a Milano la voglia che abbiamo testato muovendoci a Milano è stata quella di riprendere la normalità. Certo gli effetti si sono sentiti sulla città Dolores. Prima di tutto il traffico che è calato vertiginosamente. Meglio per noi che siamo sempre di corsa ma certamente è evidente che qualcosa non va mentre le attività commerciali purtroppo sono davvero messe in forte difficoltà. Se vuoi farmi delle domande chiedimi fai pure se no intanto io vado avanti a raccontarti questa giornata milanese durante la quale insomma come ti ho anticipato. Certo Elisa, intervengo innanzitutto per ringraziarti per la puntualità e anche per la fermezza che stai dimostrando di continuare ad avere nonostante questo momento che abbiamo seguito nella diretta precedente prima che Angoli appunto prendesse la linea. I momenti sono stati concitati quindi sicuramente sgomento da parte di tutti voi presenti lì sicuramente anche per il timore in qualche maniera e l'incertezza di essere ipoteticamente entrati in contatto con questa persona. Come dici bene la situazione è del tutto in divenire quindi ci saranno probabilmente informazioni più precise e aggiornamenti. Quello che ci dici invece per la situazione della città che in qualche maniera sicuramente ha risentito di tutte le restrizioni e che però in qualche maniera continua a reagire. In questo momento i tuoi, i nostri colleghi, le altre emittenti che sono presenti lì con te nella sala stanno comunque continuando ad allertare la situazione. Che cosa accade? Riesci a documentarcelo? Guarda Dolores, in realtà tanti colleghi hanno già lasciato la sala. Dopo un primo momento di raccolta possiamo dire, di confronto tra di noi per capire come muoverci, molti sono i colleghi che hanno abbandonato la sala. Siamo rimasti in pochi, siamo rimasti solo noi impegnati nelle dirette e comunque nella volontà di documentare questo momento. Posso anche dirti che in realtà siamo stati invitati a lasciare la sala, quindi non potremo fermarci molto. Ci hanno concesso l'uso dello spazio proprio perché comprendono anche i colleghi della regione che se dobbiamo adempiere al nostro lavoro, dobbiamo fare delle dirette e raccontare quello che sta accadendo in questi momenti. ti ripeto, quando è arrivato l'invito di abbandonare la sala, speranze di poter avere qualche informazione in più, insomma sono veramente sparite perché la volontà è stata quella di bloccare tutto e invitarci a tornare sicuramente in un altro momento. quanto doveva essere comunicato e è stato affidato a un comunicato stampa che a questo punto attendiamo per conoscere l'evoluzione della situazione. Come ti ripeto, c'era attesa riguardo anche alle nuove disposizioni in merito alle ordinanze che sono state messe. Parliamo in particolare dell'ordinanza legata ai bar che è stata poi fortunatamente rivista e quindi la possibilità dei bar di continuare l'attività se dotati di tavoline all'esterno anche oltre le ore 18, ma parliamo ovviamente anche dell'ordinanza che colpisce scuole, centri sportivi, attività, insomma tutte quelle situazioni che sono interessate dalla chiusura. Come ieri è accaduto durante la conferenza stampa con le domande da casa, le mamme, i genitori, i nonni vogliono sapere come si evolverà la situazione soprattutto riguardo alla gestione anche dei bambini. Sono le domande di casa, sono le domande delle persone comuni come noi, insomma, che vogliono sapere come devono comportarsi e come organizzarsi nei prossimi giorni. Speravamo di sapere qualcosa già oggi, invece sarà ovviamente difficile se non espressamente scritto nel comunicato che attendiamo. Mentre riguardo all'evoluzione della malattia, posso dirti Dolores che sentendo le persone che abbiamo incontrato, la paura sta scemando, sta calando. Ora c'è veramente questa voglia di tornare alla normalità. È stato percepito che non si tratta di una epidemia mortale, lasciami passare il termine, ma di una influenza molto forte, molto virulenta che mette in difficoltà soprattutto le persone più anziane, le persone con anche delle patologie, un quadro clinico difficoltoso, diciamo già caratterizzato da altre patologie. Le persone questo, da quanto sono riuscita a raccogliere io, lo hanno capito. Quindi la voglia è torniamo alla normalità, manteniamo l'attenzione alta, quindi il soffiarsi il naso, lavarsi frequentemente le mani, stare attenti a tossire, cercando di evitare, insomma, di mantenere gli spazi, osservare tutte quelle norme igieniche che in teoria dovremmo già nella normalità osservare, ma che in questo caso vanno assolutamente rispettate. Elisa, io davvero ti ringrazio per la puntualità, la completezza delle informazioni. Ovviamente abbiamo ben capito la situazione in divenire. Intanto mi scuso con l'ospite che già dall'inizio della nostra puntata di Angoli era qui, ma ovviamente le informazioni continuano ad arrivare. Presento Elena Negretti, Assessora della Sicurezza e della Protezione Civile per il Comune di Como, che intanto, gentilmente, insomma, ha seguito insieme a me e insieme agli amici a casa, insomma, la diretta con la quale la nostra Elisa Santa Maria ci sta raccontando come evolve la situazione. Quindi mi scuso per non averla coinvolta in questa prima parte, ma tutta la seconda parte di Angoli sarà ovviamente dedicata all'approfondimento sulla situazione di Como. Ci fermiamo brevemente. Ben ritrovati, la seconda parte del nostro appuntamento con Angoli. Vi ricordo immediatamente che da questo momento le linee telefoniche sono a vostra disposizione. Se volete intervenire basta comporre lo 031-3300-655 oppure scrivere appunto via WhatsApp al 335-708-4396. Ovviamente in questo momento per rivolgere domande di pertinenza a Elena Negretti, Assessore di Sicurezza e Protezione Civile del Comune di Como, quindi circoscrivendo le vostre domande alla situazione della città. Quindi le notizie, insomma, che arrivano da Milano ci hanno ovviamente messo addosso una certa concitazione, soprattutto per i colleghi presenti. Ma veniamo invece alla realtà comasca. Quali sono, qual è la situazione, la fotografia della situazione di questo momento e che cosa è cambiato? Allora, innanzitutto buonasera Dolores, grazie per l'invito e buonasera a tutti i telespettatori. Sicuramente parto da Palazzo Cernezzi perché ci siamo occupati in queste ore di poter riorganizzare al meglio in questa situazione per garantire ai cittadini comunque di accedere agli sportelli che abbiamo appunto istituito e per continuare comunque, come è stato detto, le attività perché questo è quello che deve... È la priorità insomma. È la priorità, non dobbiamo farci prendere dalla paura, l'abbiamo detto, e quindi il comunque mantenere il quotidiano aiuta tanto. Io devo dire che stamattina, a parte magari qualche inizio un po', ma come chiaro c'erano dei cambiamenti importanti, poi però ho visto veramente grande collaborazione da parte dei cittadini che ringraziamo, che hanno capito la situazione, che attendono con pazienza perché ovviamente abbiamo detto che l'accesso è contingentato per cui agli sportelli si accede uno per volta. Ringrazio la protezione civile che ci sta dando una mano anche in comune per appunto agevolare e informare i cittadini. Ringrazio i dipendenti perché in queste ore si sono spostati di ufficio, tutti hanno collaborato per continuare il lavoro chiaramente in situazioni un po' particolari. Però veramente c'è la buona volontà da parte di tutti e quindi... Questo aiuta a raggiungere questo obiettivo in un momento davvero molto delicato. Vorrei commentare con lei, Assessore, un'altra notizia della giornata. C'è stato il coprifuoco per i bar che fino appunto a qualche ora fa dovevano concludere la loro attività alle 18, ma qualcosa è cambiato. Sei d'accordo? Ascoltiamo chi ci sta chiamando. C'è una telefonata. Pronto con chi parlo? Parla con una signora. Senta, io volevo chiedere, posso? Certo signora, l'ascoltiamo. Voi state parlando di tutto di questo coronavirus, ma tranne di un problema molto serio delle persone che sono in gravidanza e il rischio che corrono. Ecco. Signora, la ringrazio ovviamente questa domanda non è... La ringrazio per essere intervenuta. La domanda ovviamente non è di stretta competenza dell'ospite che questa sera è qui, come ricordo, Elena Negretti, Assessora della Sicurezza e della Protezione Civile del Comune di Como, ma approfitto sullo stimolo di questa domanda della signora che gentilmente è intervenuta per ricordarvi invece che alle 20 in ETG più con la conduzione di Anna Campaniello l'ospite presente sarà il medico di base Walter Colombo. Quindi in quel momento potrete nuovamente usufruire delle linee telefoniche a vostra disposizione e quindi porre domande come questa per avere delle risposte più pertinenti. In ogni caso le donne in gravidanza ovviamente vanno tutelate a maggior ragione. Sì, abbiamo detto che sicuramente questa particolare influenza deve essere attenzionata da tutti i soggetti, quelli deboli. Una donna in gravidanza è uno stato particolare, sicuramente comunque non è una preoccupazione non è una patologia, però deve avere certe accortezze, per cui l'accortezza che si tiene non andando magari in contatto con persone influenzate e questo. Nei pronto soccorsi o comunque negli ospedali credo che abbiano istituito dei percorsi di accesso in sicurezza, per cui mi sembra che le azioni di protezione si sono attuate. Assolutamente ci siano. Quindi torno all'argomento che poco fa abbiamo introdotto. Quindi alle 18 fino a poche ore fa doveva accessare l'attività di bar e pub e quant'altro non è più così. Perché avete preso questa decisione innanzitutto? Beh, è una decisione che non ha preso il Comune, anche qua è una decisione che ha preso Regione Lombardia. Lo si diceva anche nei giorni scorsi, è tutto un po' un work in progress e probabilmente anche ascoltando le varie segnalazioni che sono giunte dai vari comuni, dalle varie province, stanno cercando di agevolare un po' tutti, perché nessuno vuole fermare le attività, cioè non è un'imposizione per andare contro qualcuno. Sono decisioni prese per contingentare il fenomeno. Non potete venire meno all'osservanza di queste indicazioni. Noi non possiamo, anzi siamo contenti, lo si commentava poche ore fa con il sindaco, con il dirigente del settore commercio che si stava appunto condividendo questa decisione, benvenga che nei bar che hanno i tavolini, in questo momento abbiamo detto che non possono somministrare intorno al bancone o comunque fronte al bancone, ma nei tavolini. Quindi se nel bar ci sono 40 posti a sedere, devono esserci 40, non più di 40 persone, devono occupare i propri posti a sedere. Può essere giusto o sbagliato, questo insomma, io non entro nel merito. In questo momento mi sento di dire che ci sono delle regole che hanno deciso, noi non possiamo far altro più applicare. Non potete venire meno, ovviamente. Questo vale anche, approfitto per un'osservazione appunto che abbiamo fatto invece con l'ospite di ieri sera, abbiamo sottolineato che anche le celebrazioni eucaristiche sono state sospese, ovviamente sempre per la stessa ragione. Ci sono indicazioni che arrivano da Regione Lombardia, nessuno può venirne meno, ovviamente, e quindi anche questa indicazione è stata strettamente messa in atto. In che maniera il Comune si sta muovendo, ovviamente nell'osservanza delle indicazioni, ma in generale, come lei ha sottolineato, per salvaguardare la salute dei cittadini, in primis, ma anche per venire incontro, per esempio, alle attività economiche e quant'altro. Certo, allora, lo diceva prima il collegamento che è stato fatto con la collega direttamente da Regione Lombardia, è chiaro che stiamo vedendo che le attività, i commercianti, soffrono di questa cosa. Ripeto, è anche vero che a fronte di queste notizie non si poteva non prendere delle decisioni, perché poi è difficile poi rincorrere, insomma, anche gravi situazioni di salute, quindi in questo momento la priorità è la salute. Possono sembrare, ripeto, decisioni forti, però è anche vero che la salute è prima di tutto, motivo per cui anche in Comune è stato difficile mettere insieme le esigenze dei cittadini, le attività che non si devono fermare, ma le esigenze di rispetto dei dipendenti. In questi giorni anche recuperare del disinfettante è stato veramente difficile. È vero, assolutamente. Però abbiamo ottemperato a queste regole, veramente c'è stato un lavoro di squadra grandissimo. Quindi l'indicazione, come lei ha ben ricordato, è quella di rispettare le indicazioni sempre comunque nel bene e nel rispetto dei cittadini. Tra l'altro, lo ricordiamo ancora, ovviamente il virus, il coronavirus, c'è in questo momento, sta in qualche maniera circolando, però ricordiamo che è assolutamente importante mantenere il controllo della situazione, ricordando che comunque si tratta di poco più di un'influenza e poi va a colpire persone, come anche la collega ha già ben sottolineato, già con un quadro clinico comunque patologico particolarmente compromesso. Abbiamo qualcuno al telefono, pronto, con chi parlo? Pronto, buonasera. Buonasera, benvenuta. Buonasera, ascolti, io vorrei fare un punto, una domanda all'assessore. Vorrei chiedere, siccome c'è mia figlia che dovrebbe sostenere l'esame di guida, di guida pratica, e poi perché ho letto con il nuovo decreto che verranno sospese anche gli esami di guida, è vero? Ci sono delle novità in merito? Guardi, sinceramente mi coglie un po' impreparata perché bisogna fare riferimento sicuramente alla scuola guida che ha sotto mano le normative che sono state emanate. Sinceramente non ho idea di come si sono comportati sulla scuola guida di competenza che sicuramente saprà se sono autorizzati o meno a fare gli esami di scuola guida. Bene, grazie per essere intervenuta, signora. Un'altra domanda ricorrente si rivolge ovviamente alla riapertura delle scuole. Molto importante. Che cosa ci può dire? Dolores, anche qua non è stata di nostra decisione, sicuramente va fatta rispettare. Capisco che in questo momento l'organizzazione familiare è difficile perché mi hanno chiamato alcuni cittadini dicendo che fanno fatica a trovare delle babysitter. Quindi è veramente una situazione critica organizzare proprio la vita quotidiana. In questo momento è sicuramente fortunato chi ha dei nonni, dei nonni in pensione che li mettiamo a disposizione anche a 24 per accudire i bambini. Speriamo che la situazione possa evolvere nelle prossime ore in un miglioramento, in un netto miglioramento. Se mi posso permettere lancio un appello però perché deve essere di buon senso per tutti visto anche alcune notizie certe che stanno arrivando. Cioè chi è stato in contatto con persone, chi per caso è transitato in questi territori cosiddetti della zona rossa non abbia paura a segnalare, a telefonare alle persone competenti verranno date indicazioni. Questo può evitare sicuramente il diffondersi magari anche di incertezze e di paure. Come in tutti i casi magari ci facciamo un po' prendere anche da alcune paure personali di poter insomma annunciare in prima persona qualcosa. Io ritengo invece fondamentale ed è un principio che serve a contenere il problema. Quindi questo non è come dire una diffusione di panico tutt'altro ma è la diffusione di indicazioni che possano arginare il più possibile perché questa situazione si concluda velocemente piuttosto che invece diffondersi. Le persone che rispondono sono persone competenti, che hanno riservatezza e quindi nessuno diffonderà le notizie. Serve però a contenere tantissimo il problema. Bene, io saluto e ringrazio Elena Negretti, Assessora della Sicurezza e Protezione Civile del Comune di Como per la grande disponibilità in un momento intenso di lavoro per aver trovato il tempo per essere qui. Grazie a voi e grazie del lavoro che fate. Grazie anche a voi per avermi seguita tra poco alla linea ai colleghi dell'informazione. Grazie a voi.